Sono contentissimo, l'impatto è stato positivo e quindi spero che domani riescano a portare quello che hanno fatto in questa settimana sul campo. Hanno lavorato benissimo, con intensità, con cattiveria agonistica come piace a me, quindi sono contento. Una partita come tutte le altre, difficile, contro una squadra che viene da 5 risultati utili consecutivi perché ha fatto 3 vittorie e 2 pareggi. E' una squadra che si difende molto bene, noi dobbiamo andare lì, avere pazienza e soprattutto lottare su ogni pallone perché questo deve essere il nostro obiettivo principale. Tutte le partite possono essere a portata e tutte le partite possono essere difficili se non le interpreti con il modo giusto. Il termo ha battuto il padua che è prima in classifica, quindi se le interpreta bene nulla è compromesso. Tutte le partite sono difficili ma noi sicuramente daremo battaglia. Questo deve essere il nostro obiettivo, dare battaglia a tutti perché quando incontreranno il termo dovranno sudare le proverbali sette camicie per portare fuori i punti. Quindi come lo dobbiamo fare noi? Adesso no, ma domani sicuramente prima della partita un po' di emozione ci sarà, però poi quando ci sarà il fischio d'inizio tutto passerà e penseremo a quello che sarà la gara. Il panico lo conosco, lo conosco perché è un giocatore che ha fatto quasi tutte le nazionali, è un giocatore esplosivo. Non lo conosco benissimo perché non è che l'ho visto giocare, però sono sicuro che sarà un elemento che potrà darci una grossa mano. Il presidente ci ha salutato, ha detto date il massimo e noi domani daremo il massimo per cercare di portare a casa un risultato positivo.